Una firma importante, quella che la sindaca di città metropolitana di Torino, Chiara Appendino, ha apposto questa mattina a San Giusto Canavese, con la quale è avvenuta la consegna alla cooperativa sociale Progest, vincitrice del bando pubblico della villa sequestrata, al boss del narcotraffico Nicola Assisi. Una cerimonia semplice nel rispetto delle regole imposte della prevenzione della pandemia, ma carica di significato. Collegate in streaming la ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Presenti nella villa le istituzioni, con il prefetto di Torino Claudio Palomba, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca metropolitana Chiara Appendino, Don Luigi Ciotti e Maria Iosefava, presidente nazionale e regionale dell'associazione Libera contro le mafie, che per primi hanno avviato la battaglia per ottenere la riconsegna alla collettività dei beni sequestrati ai mafiosi. Progest, nella villa di San Giusto Canavese, realizzerà a breve interventi destinati ai disabili, progetta iniziative di co-housing sociale, pensa ad un orto didattico aperto anche alla cittadinanza. Intanto, da Don Luigi Ciotti è arrivato un appello forte allo Stato, perché la normativa sulla riconsegna dei beni sequestrati ottenga un'attenzione speciale nei piani del Recovery Fund ed una accelerazione. Solo mille i comuni in Italia attivi in questo settore e San Giusto Canavese si è distinto per impegno con questo progetto. Orgogliosa del lavoro svolto da città metropolitana di Torino, si è detta la sindaca Chiara Appendino, che ha ricordato i passi per arrivare alla firma di oggi, dall'agosto 2019, quando la villa era stata assegnata al nostro ente dall'Agenzia Nazionale per i beni confiscati.